Per gli sviluppi dell'incontro previsto per domani fra l'amministrazione comunale, l'assessore Prisco, la Cronogest che gestisce l'impianto perugino e la società del patrono Gino Sirci, la Sir Safety Perugia per arrivare a un punto dopo le minacce di trasferimento da parte del club del volley perugino, trasferimento da Perugia in altre sedi. Intanto tra l'altro è arrivata anche la presa di posizione forte della CGL, del sindacato che ha denunciato una forte preoccupazione per la gestione da parte della società Cronogest che si è giudicata, hanno scritto i sindacati con una gara d'appalto, con un sostanzioso ribasso e il ridotto numero di addetti rispetto alla precedente gestione, 8 solamente i lavoratori di cui 7 operativi sugli impianti palevangelisti, parapellini e stadio Santa Giuliana, i sindacati dicono che i lavoratori sono costretti a ritmi e orari insostenibili e quindi anche la stessa qualità del servizio degli impianti sportivi ne risente come peraltro ha ampiamente dimostrato il caso Sir Safety Perugia. Quindi ci sarà appunto da vedere se si riuscirà ad arrivare in breve tempo ad un accordo, ad un punto d'incontro già dalla riunione di domani.